Ciao ragazzi e benvenuti in questa recensione di Werewolf by Night, lo speciale di Halloween uscito oggi su Disney+, che in Italia è stato chiamato Licantropus, come del resto la sua controparte fumettistica. Infatti il personaggio nei fumetti in America si chiama Werewolf by Night, le sue storie sono chiamate così, mentre qui in Italia da sempre è conosciuto, conosciuto, perché non è un personaggio così importante in realtà, come Licantropus. Ho visto molta gente lamentarsi di questa traduzione, facendo riferimenti a Moon Knight, che si chiama Lunar, o Spider-Man, che sarebbe strano sentir chiamare nei film, come l'Uomo Ragno, come veniva chiamato qualche anno fa, in realtà solo qualche anno fa, nei fumetti, però sinceramente per quanto mi riguarda non è che del titolo me ne freghi poi così tanto. Ero però davvero tanto, tanto curioso di vedere questo speciale, a parte che è un nuovo tipo di prodotto per i Marvel Studios. Sappiamo poi infatti che a dicembre arriverà lo speciale di Natale dei Guardiani della Galassia, chiamato proprio Guardians of the Galaxy Holiday Special, naturalmente in Italia avrà un titolo un po' diverso, e poi ci sono solamente dei rumor su possibili altri speciali negli anni, tra cui quello di Halloween del 2023, che secondo rumor sarà su Manfing, personaggio che già abbiamo visto in questo Licantropus, e non è uno spoiler, si vede anche nei trailer. E poi magari arriveranno altri speciali, non per forza, per le festività. Mi aspetto anche qualche speciale così decontestualizzato da qualche evento in particolare. A questo punto comunque mi aspetto che lo speciale dei Guardiani arrivi ad inizio dicembre, visto che questo arriva a inizio ottobre per Halloween, che è il 31. Comunque ragazzi, prima di iniziare con la recensione di questo film, vi invito come sempre a supportare il mio canale lasciando un like, se ancora non l'avete fatto, iscrivervi se non siete iscritti e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. In descrizione trovate i link dei miei social, tra cui Instagram e TikTok, dove sono molto attivo, e se volete supportare il canale in un altro modo, potrete acquistare su Pampling il sito di t-shirt e articoli nerd, dove trovate questo design, che vedete adesso sullo schermo, e se al momento del pagamento inserirete il codice ILPENSIERO4, dopo aver messo un paio di calze nel carrello, queste calze saranno totalmente gratuite. Codice ILPENSIERO4, supporterete il canale e avrete un paio di calze, mi raccomando. Ma adesso iniziamo con la recensione, perché ho diverse cose da dire, a parte che il film lo attendevo davvero tanto, quindi non vedevo l'ora che arrivasse questo 7 ottobre, e tra l'altro è stato anche annunciato ufficialmente solo qualche settimana fa al Disney Plus Day, no, era il D23, non il Disney Plus Day, e non ci aspettavamo questa data così vicina, ci aspettavamo sicuramente un ottobre generico, ma non il 7 ottobre, solo qualche settimana dopo l'annuncio. Sapevamo già dell'esistenza di un Werewolf by Night da forse un anno, anche di più, quindi si sapeva dovesse uscire uno speciale del genere, tra l'altro già sapevamo che sarebbe stato diretto da Michael Giacchino, ovvero il compositore di tantissime colonne sonore che adoro, forse è uno dei miei compositori preferiti, quindi volevo vedere come se la sarebbe cavata alla regia, e devo dire che non è assolutamente male, non ci sono problemi, quindi è abbastanza lineare, una regia abbastanza lineare, non c'è ancora un modo per riconoscerlo, almeno da solo questo prodotto, però di mezzo questa volta ci sono tutti i riferimenti al cinema, anni 30, anni 40, anni 50, a cui questo film appunto fa riferimento, scusate la ripetizione. Quindi magari per quello che ho attribuito alcune inquadrature, alcune scelte registiche, ha quel riferimento più che a una scelta di Michael Giacchino. Spero che dopo questo prodotto continui anche su questa strada, oltre non voglio che lasci naturalmente la musica, voglio che continui anche come regista, ci sono dei rumor che lo vogliono come regista di Blade, e a questo punto ci potrei fare un pensierino, magari possiamo pensare a un Michael Giacchino che si occupa di tutta la parte occulta del Marvel Cinematic Universe, partendo appunto con Lycanthropus, poi Blade, possibilmente potrebbe dare un aiuto a Moon Knight in qualche modo, visto che la prima stagione mi ha fatto stracagare, e magari con qualcuno dietro che se la cava davvero, potrebbe risultare qualcosa di interessante, con qualche altra comparsa del personaggio, oppure una seconda stagione che è tanto rumoreggiata e quindi secondo me arriverà. Comunque, a parte la regia, proprio come questo video, il film è tutto in bianco e nero, o meglio, è in bianco e nero, non tutto. Perché non è uno spoiler, in diverse clip possiamo notare che c'è questa sorta di pietra che all'inizio qualcuno ha pensato alla gemma della realtà, ma ovviamente non poteva essere quella, a parte che il film in teoria è canonico, non è fuori dall'MCU totalmente, viene fatto riferimento veramente pochissimo all'MCU, però è canonico, quindi la gemma della realtà non esiste più. Sempre se il film è ambientato nel presente dell'MCU, ma si fa qualche riferimento a una realtà abbastanza contemporanea a quella nostra, quindi penso di sì, penso siano negli anni 2000 più o meno. Fatto sta che questo bianco e nero poteva dar problemi a qualcuno, qualcuno che non è abituato alla visione di film del genere, che poi, perché dovrebbe esserci qualcuno non abituato? So che magari qualcuno ha già chiuso questo video perché dà fastidio la visione in bianco e nero, ma volevo fare questa cosa, quindi mi accontenterò dei risultati. Non importa, comunque, in 50 minuti, perché questo è un mediametraggio, comunque un film, ma non un lungometraggio, quindi quelli che siamo soliti vedere al cinema, in 50 minuti c'è una storia abbastanza semplice, non c'è chissà che gran colpo di scena finale, perché comunque l'Icanthropus sappiamo già chi è, non c'è il colpo di scena, oddio, è un mostro, ok. Fatto sta che, essendo così tanto semplice, non si vedeva un prodotto del genere così tanto ben realizzato da tanto tempo nel Marvel Cinematic Universe. Pensando che in questo periodo sta ancora uscendo She-Hulk, sì, magari l'ultimo episodio, quello con Daredevil, potrei anche farmelo andare bene, ma non per forza per Daredevil, ma il resto è assolutamente da buttare, come Moon Knight, come la fine di Miss Marvel, come The Falcon and the Winter Soldier, come Loki dovrei rivederla, ma probabilmente rivedendola potrei rivalutarla in negativo, quindi magari non voglio fare questa cosa. Comunque la fase 4 è stata un po' deludente, sicuramente la peggiore fase dall'inizio del Marvel Cinematic Universe, però questo Werewolf by Night, o meglio, Lycanthropus, per quanto mi riguarda è uno dei prodotti migliori assieme a Doctor Strange, in the Multiverse of Madness e VandaVision. Già, ho levato dai prodotti migliori Eternals, perché con gli altri due rewatch, l'ho visto solamente tre volte in totale, beh, è stato abbastanza noioso, è lunghissimo ed è lentissimo, è... sì, è un film carino, ok, ci sono tantissime cose che non tornano, ma davvero, davvero noioso, e quindi l'ho levato dai pro della fase 4. Incrociamo le dita per Wakanda Forever, perché spero sia un buon film. Comunque, Werewolf by Night, totalmente approvato. I personaggi sono presentati bene, la storia è semplice, quindi altrettanto presentata bene, le scene sono realizzate in maniera ottima, perché comunque sì, si fa, ripeto, riferimento a film vecchi horror, per lo più, anche se in realtà non c'è così tanto horror in questo film, c'è tanta violenza, ne parliamo dopo. I riferimenti, soprattutto se si è fan di un certo cinema, si capiscono tutti. Quando vengono usati gli effetti speciali, quindi costumi, trucchi e robe varie, siamo veramente al top del top, però quando viene usata la CGI, sfortunatamente, magari essendo appunto un prodotto di Disney+, si va un po' calando. Infatti viene usata la CGI poco, non viene usata tantissimo, ma ci sono alcune scene in cui un certo personaggio è fatto in CGI, e si vede appiccicato sullo schermo come... non come She-Hulk, ma siamo lì vicini. Parlando appunto della violenza, non mi sarei aspettato di vedere un film, un prodotto dei Marvel Studios, soprattutto su Disney+, così tanto violento. Magari il fatto... ma no, magari, in realtà è un dato di fatto che, essendo in bianco e nero, quindi non ci sono i colori reali, essendo in bianco e nero, c'è questa regola che il film può essere classificato PG-13, se non sbaglio è stato classificato così in America, anche con questo tipo di violenza, perché il sangue non si vede rosso, e quindi quello potrebbe non essere sangue, anche se è strapalese che è sangue, infatti si vedono sgozzamenti, parti del corpo che saltano, parti del corpo che esplodono, e questo mi ha fatto davvero stranire, ma nel senso buono, perché non me l'aspettavo e ne sono rimasto assolutamente contento. Non so voi, ma questo personaggio davvero vorrei rivederlo nel Marvel Cinematic Universe, e sicuramente lo rivedremo magari appunto negli altri speciali di Halloween, quello su Manfing quasi sicuramente, se ci sarà uno speciale su Manfing, di base deve esserci quest'idea, ma vederlo anche in qualche film, magari su Blade, in qualche altro film, sull'occulto, sul sovrannaturale del Marvel Cinematic Universe, non mi farebbe che piacere, perché è stata un'ottima presentazione, molto semplice, ripeto, ma super apprezzata. Ma adesso, se non avete visto lo speciale di Halloween, intanto do un voto a Werewolf by Night, e poi passiamo alla parte spoiler. Il voto per questo speciale di 54 minuti, non c'è neanche una scena post-credit, eh, volevo dirlo, magari è questo un modo per distaccarlo totalmente, o dall'MCU, o comunque far vedere che è una cosa un po' differente, ma in ogni caso, il voto per Werewolf by Night o Lycanthropus è un 9. Davvero, non voglio dare un 10, perché c'è qualcosa a livello di CGI, o comunque di gestione dei tempi, un po' che non mi ha fatto impazzire, però un 9 è un voto più che accettabile, direi. Ripeto, questo speciale è una delle cose migliori della fase 4. Ma adesso, se non avete visto lo speciale, uscite dal video perché inizierò a fare spoiler, pochi in realtà, perché non ho tantissimo da dire, ma voglio concentrarmi su alcuni punti che potrebbero essere visti come spoiler. Se non avete visto Lycanthropus, uscite dal video e tornate solamente dopo averlo visto, perché gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1. In realtà, in questa parte vorrei parlarvi per lo più del finale del film, perché abbiamo per tutta la durata, per tutti i 50 minuti, questa Bloodstone, che non è la pietra della realtà, non è la gemma della realtà, ma è una pietra che dà, che toglie, in qualche modo, forse, ai mostri, non ci viene spiegato come succede, ma ce lo facciamo andare bene, non c'è bisogno di una spiegazione dettagliata. E questa pietra per tutta la durata del film è rossa, che stona tantissimo in un mondo totalmente in bianco e nero, un mondo che non è realmente in bianco e nero, non è che i personaggi vedano in bianco e nero, però il film, anche per far riferimento a quel tipo di cinema degli anni 40-50, è in questo modo. Poi però, sul finale, questa pietra che è ora in possesso di Elsa Bloodstone, ovvero la figlia dell'ex possessore di questa pietra, il colore passa dalla pietra al suo giubbotto, che è anch'esso rosso, ma ovviamente è un'idea che mi è piaciuta tanto, perché c'è un passaggio molto... abbastanza fluido, ed è una cosa che in qualche modo mi ha ricordato anche Wandavision, ma comunque il licantropus poi dal giubbotto di Elsa Bloodstone passa a tutta l'inquadratura, e anche le altre inquadrature, perché poi vediamo Swamphing dopo essere stato salvato da Elsa e Jack, con Jack stesso, che sono fuori, e probabilmente sono, ripeto, in un mondo, nel mondo dell'MCU, nell'universo, nel multiverso dell'MCU, quello che abbiamo conosciuto finora, anche perché si parla di sushi, e questo è un dettaglio che magari hanno buttato lì per farci capire che siamo comunque in un mondo attuale, nonostante tutto quello che abbiamo visto per 50 minuti, e io sono davvero curioso di vedere come impiegheranno poi questi... se impiegheranno questi personaggi in altri prodotti, altri speciali, altre serie, altri film. Voglio vedere come ingloberanno questo genere di personaggi, quelli sovrannaturali, i mostri, che finora non sono mai comparsi effettivamente nel Marvel Cinematic Universe. Sì, ci sono stati mostri del tipo di demoni o i personaggi di Moon Knight, ma se vogliamo anche Hulk possiamo definirlo mostro. Non so se i diversi cacciatori in questo film lo definirebbero tale, però voglio anche capire cosa scaturisce questa differenza da un superumano come Hulk a un mostro come Jack Russell, che qui si trasforma appunto in Likantropus, un lupo mannaro. Fatto sta che il personaggio di Manfing mi è piaciuto molto, tranne le parti in cui è fatto in CGI, totalmente in CGI, ovvero quelle finali, dove uccide la matrigna di Elsa Bloodstone e quella in cui assieme a Jack Russell sta fuori dal... sta fuori, non so dove sono. Quella in cui sul finale è tutto a colori. Magari il fatto che fosse a colori ha accentuato questo problema con la CGI, perché sembra davvero appiccicato sopra lo schermo vicino. Tra l'altro cambia anche dimensioni tra un'inquadratura e l'altra, quindi sì, è un po' un problema come il figaro del live action di Pinocchio che diventa piccolo così e poi diventa di una grandezza naturale di un gatto, ma quello è fatto assolutamente, totalmente peggio di Manfing, quindi non sono così tanto problematiche le scene con Manfing, quando è tutto in bianco e nero, un po' problematiche verso la fine. Però assolutamente mi è piaciuto davvero tantissimo il look di Likantropus, di Werewolf by Night, perché è tutto prostetico in teoria, tutto un costume, tutto trucco. A volte questi salti sembravano molto finti, ma questo è un modo per omaggiare quel tipo di cinema in cui questi salti sembravano finti, ed erano finti naturalmente. Quindi ripeto, Werewolf by Night, Likantropus, come volete chiamarlo o chiamate, mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. Non vedo l'ora di rivedere se rivedremo questi personaggi. Tutta la parte iniziale, sì, un po' lenta, ma serve alla presentazione, non è noiosa, assolutamente. Poi quando si inizia con l'azione tra i combattimenti tra Elsa e gli altri cacciatori di mostri, lì inizia la parte più interessante, ovviamente. Ma ripeto, per quanto mi riguarda non è mai stato noioso. Mi ha fatto un po' strano vedere Likantropus solamente negli ultimi 20 minuti, nemmeno in realtà 15 minuti. Un quarto d'ora se togliamo i titoli di coda, ricordiamo non ci sono scene post-credit, mi ha fatto un po' strano perché comunque non è una scoperta che lui sia Likantropus, si sa fin dall'inizio, si sa, è nel poster con dietro l'ombra del lupo Mannaro, quindi anche per quelli che non conoscevano il personaggio prima di questo speciale, comunque si sa chi è Likantropus. Farlo comparire un po' prima, secondo me, sarebbe stato meglio. Però non è un problema così grande. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Vi è piaciuto oppure no? Se volete scrivete anche una vostra piccola recensione di quanti rig volete, mettete anche un voto se volete. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link dei miei social, i link di Pampling, codice ilpensiero4, per supportare il mio canale e avere un paio di calze gratis. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!